Stefano Mugnai, coordinatore regionale di Forza Italia in Toscana, insomma, è qui in provincia di Siena un territorio difficile. C'è da ripartire, lei sa benissimo che in provincia di Siena Forza Italia, come dire, ha perso un po' della sua forza originaria, anche per essere stata, vox populi a Siena, uno degli elementi di sostegno al vecchio regime, che era impegnato sul PD, ma insomma una cosetta ce la metteva anche Forza Italia. Parliamo ovviamente della gestione precedente, diciamo, verdiniana. Voi capite che in politica, anche all'interno dei partiti, ci sono delle battaglie politiche per chi prende la leadership di un movimento. Evidentemente in Toscana, all'interno di Forza Italia, una battaglia c'è stata. Se sono qui a parlare, evidentemente a tutti chi l'abbia vinta, e quindi la volontà dei nuovi asset di Forza Italia in Toscana è di essere concretamente alternativa al sistema di potere del PD in Toscana, così come a Siena. Siamo convinti che la politica debba necessariamente tornare ad affondare radici sul territorio. Stiamo organizzando, lo stiamo facendo, ormai si è concluso il giro di tutte le province, organizzando coordinamenti provinciali in tutti gli angoli della Toscana. E oggi siamo qui a Siena a testimoniare che evidentemente il nostro lavoro sta dando i primi risultati, perché in questi mesi sono stato diretto testimone di tanti esponenti politici che avevano fatto un percorso di strada insieme a noi e che magari si erano allontanati e stanno rientrando in Forza Italia. Oggi qui a Siena sta accadendo qualcosa di più, però. C'è un'intera classe dirigente di un partito, il nuovo centrodestra, che di fatto lascia il nuovo centrodestra e rientra in Forza Italia. Evidentemente la politica la fanno le persone e le persone, come diceva Toto, sono di tanti tipi, però ci sono anche persone che hanno una loro coerenza e quindi uno può fare anche una scelta in un momento di sostenere una nuova esperienza politica, valere il nuovo centrodestra, ma nel momento in cui è chiaro a tutti che il nuovo centrodestra, pur mantenendo questo nome, di fatto ha la sua prospettiva politica di fare da stampella al PD, le persone coerenti, se si ritengono oggettivamente di centrodestra, debbono fare scelte diverse. E evidentemente queste persone senese, questo gruppo dirigente, il nuovo centrodestra di Siena, hanno capito e capiscono perfettamente che il centrodestra unito è l'unica alternativa di governo vincente alla sinistra, al PD e quindi anche al Movimento 5 Stelle, ma perché il centrodestra sia vincente bisogna che Forza Italia sia forte. Quindi non siamo ben felici che questi amici siano rientrati in Forza Italia e che ci accompagnano in un percorso che ci porterà a Siena, come è avvenuto ad Arezza, per la Santa, a ottenere dei risultati per molti inaspettati, ma per me invece assolutamente probabili.